27 ottobre ariete urano in transito nel vostro segno da tempo porta qualche cambiamento e novità un po di movimento generale nella vita altro canto saturno in bell'aspetto confiorisce una impostazione mentale più rigorosa arginando così la vostra esuberanza un connubio positivo toro la dissonanza del sole può causare un lieve abbassamento di tono ma in generale siete protetti da un quadro astrale molto favorevole il momento è adatto per prendere iniziative e portare avanti i vostri progetti con forza gemelli la vostra verve è un po appannata siete vittime di una sorta di ripiegamento in voi stessi che vi porta ad una profonda riflessione su come costruire e far procedere alcuni aspetti di vita come il lavoro il lato sentimentale agite con ponderatezza cancro sostenuti da un cielo astrale favorevole in massima parte potete beneficiare di interessanti occasioni per risaldare rapporti affettivi e trovare anche un amore importante la regola fondamentale però è quella di rimuoversi rendersi disponibili ed essere ricettivi leone è il momento della concretezza di accantonare desideri di espansione eccessivamente grandiosi e di consolidare ciò che finora avete ottenuto la vostra natura solare è ancora viva ma siete messi alla prova da situazioni che richiedono rigore vergine non si può che rinnovare l'ennesimo consiglio di approfittare con consapevolezza e lucidità di questo periodo così benevolo che promette un bel fiorire di risultati ricchi di soddisfazione avete l'opportunità di cambiare ciò che desiderate ma dovete avere le idee chiare bilancia la quotidianità si snoda sui binari consueti che caratterizzano questo momento un po frenetico per la vostra indole pacata ma tutto sommato edificante perché risveglia energie sopite il gusto estetico che vi contraddistingue vi farà apprezzare scorpione le vostre energie sono accese dal passaggio del sole nel segno che vitalizza fisico e psiche forti di configurazioni astrali fortunate avete campo libero per operare scelte di successo e ricevere conferme anche inaspettate moderate però i toni bruschi sagittario avvertirete un senso di solitudine interiore che è inusuale per voi così ottimisti e camerateschi è solo il segnale di una maturazione che trasforma qualche vostra convinzione e vi farà prendere strade diverse da quelle finora sperimentate capricorno una buona sintonia interiore energizza le vostre capacità e vi rende consapevoli dei vostri limiti e delle vostre peculiarità cercate di vivere con determinazione questo periodo che può far nascere occasioni interessanti per appagare la vostra ambizione acquario nuove prospettive vengono tracciate dal vostro cielo astrale che si sta lentamente risollevando qualche dissonanza può fiaccare un po le vostre forze ma in generale state acquisendo maggiore risolutezza ed efficienza nelle azioni e nei pensieri pesci illuminati da un sole ben disposto avete modo di recuperare vitalità ed ottimismo le contrarietà che caratterizzano questo momento cercate di viverle ridimensionando i problemi state edificando le strutture portanti del vostro futuro buone stelle